Grazie a tutti. Abbiamo un'avventura che è partita da lontano ed è partita da una valutazione che ho fatto da sindaco, da persona consapevole dei problemi drammatici che abbiamo nella gestione dei nostri apparati comunali ridotti a nulla in qualche caso. Abbiamo ormai settori tecnici, settori ragioneria quasi totalmente sguarniti, una situazione davvero incredibile per i nostri amministratori, ma anche per una preoccupazione sociale. Quando siamo partiti tre anni fa siamo partiti sulla base di uno studio di alcune università italiane relative alla pubblica amministrazione in Italia. In Italia c'è questo senso comune che circola. La pubblica amministrazione è un luogo di sfaccendati, è un luogo assolutamente inutile in relazione ai problemi dello sviluppo e del lavoro. Questo ovviamente è una bestialità perché una pubblica amministrazione inefficiente blocca anche le opportunità di sviluppo economico, industriale, territoriale. Non ci voleva molto a capirlo, ma quando abbiamo lanciato questa idea tre anni fa è arrivato qualche ministro che ci ha anche raccontato che il lavoro lo creano le imprese, non la pubblica amministrazione, che è una grande idiozia ovviamente. Lo so pure io che il lavoro creano le imprese, ma un'impresa per fare un qualunque progetto, o per insediarsi in un qualunque territorio o per avere un qualunque parere ambientale o sanitario o di altro tipo ha bisogno di una pubblica amministrazione efficiente. Se per fare il dragaggio nel porto di Napoli o di Salerno noi ci mettiamo cinque anni per avere il parere ambientale del ministero e pippe varie, mentre a Rotterdam lo fanno in tre settimane è evidente che anche lo sviluppo risulta fortemente danneggiato dalla palude burocratica. Una premessa prima di venire nel merito di questo problema, lo dico ai colleghi sindaci, noi abbiamo retto rispetto all'epidemia, vi voglio ringraziare ovviamente per il livello di collaborazione che ci è stato garantito in asuto ai sindaci. Io ho sempre ritenuto che un grande sindaco, un sindaco efficiente è una fortuna per una comunità, un sindaco idiota è un guaio passato per una comunità, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, c'è un sindaco scemo, un sindaco fanatico, sono un guaio passato. Voi ci avete dato una grande mano quando avete dimostrato concretezza, avvicinanza ai territori, capacità di capire anche la delicatezza dei problemi che dovevamo affrontare. Abbiamo retto, grazie a Dio, abbiamo retto in qualche caso anticipando di 15 giorni, decisioni prese 15 giorni dopo dal governo nazionale. Ci siamo salvati in larga misura per questo. Mentre in altre parti d'Italia si brindava, noi chiudevamo tutto quello che si poteva chiudere, perché sapete meglio di me che abbiamo una tale congestione nei nostri territori, un tale peso demografico soprattutto nell'area metropolitana di Napoli, Caserza, sulla fascia visuviana che se avessimo perso il controllo della situazione avremmo avuto in Campania un'ecatombe. Abbiamo retto, abbiamo fatto il nostro dovere, ci siamo assunti le nostre responsabilità. Quando dovevamo stringere abbiamo stretto, oggi possiamo guardare con soddisfazione al lavoro fatto. È stata una prova di grande efficienza. Continuiamo ad essere attenti, dal 22 renderemo facoltativo l'uso delle mascherine. Vi chiedo di spiegare ai vostri concittadini che questo non significa che facciamo festa a tutti quanti, che è passato tutto. Innanzitutto renderemo obbligatorio portare la mascherina con sé. Facoltativo metterla o meno ovviamente all'esterno, ma renderemo obbligatorio comunque l'uso della mascherina dei luoghi di assembramento e di pericolo di contagio. Quindi luoghi al chiuso, ma anche luoghi aperti sui lungomari, perché se abbiamo migliaia di persone che passeggiano o fanno footing senza mascherina, e beh, lì si determinano problemi. Quindi l'uso sarà facoltativo, per l'amor di Dio, diamo anche un minimo di flessibilità, però portarlo con sé sarà obbligatorio per doverlo indossare quando si determinassero problemi di assembramenti pericolosi. Noi ci stiamo preparando al meglio, nel senso che saremo pronti anche in caso di ritorno di epidemia. Dobbiamo essere pronti al peggio, cioè dobbiamo prepararci sulle ipotesi pessimistiche, non su quelle ottimistiche. Se vogliamo essere rilassati, possiamo essere rilassati. Non ce lo possiamo consentire. Noi avremo già un problema drammatico, sapete che la Regione Campania ha aperto una polemica con il Governo nazionale, perché io ritengo assolutamente irresponsabile quello che si sta facendo in relazione all'apertura dell'anno scolastico. Io sono indignato, sono veramente indignato, nel sentire e ripetere contemporaneamente proporiamo di aprire l'anno scolastico il 14 e contemporaneamente un altro ministro ci dice noi proponiamo di andare a votare il 20. Voi fate sindaci, ma potete aprire le scuole, poi fra l'altro l'orario lo dobbiamo stabilire noi come Regione. Apriamo, poi chiudiamo dopo quattro giorni, poi andiamo a votare, poi ci sono i comuni con il ballottaggio, quindi richiudiamo, riapriamo, ma hanno capito che cosa abbiamo di fronte, avete di fronte voi soprattutto, perché per l'edilizia scolastica avrete voi la responsabilità. Avremmo potuto dedicare tutto il mese di agosto a questi problemi, saremo invece impegnati ad altre imbecilità che riguardano la politica politicante e non i problemi delle famiglie. Dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, non so come diavolo si fa, ma potete andare a mettere i bambini anche in altri locali. Voi fate i sindaci, ci saranno dei presidi che si assumeranno la responsabilità di portare 500 bambini in un luogo dove non c'è il collaudo, dove non c'è la sicurezza, come dire, a punto di vista strutturale, dove non ci sono le scale di emergenza, dove non si è fatta la sanificazione, dove nessuno ha fatto l'assicurazione, perché per portare 500 bambini, voi e i dirigenti scolari devono fare un'assicurazione o no? Però, ripeto, questi sono problemi concreti che non appassionano gli eminenti scienziati che abbiamo nel governo nazionale. E questa è l'Italia. Allora, prepariamoci a settimane difficili. Noi abbiamo fatto già un primo lavoro importante che riguarda le commissioni d'esame. Consentitemi di dire con orgoglio che siamo stati l'unica regione d'Italia che ha fatto un lavoro sanitario preventivo. Credo che abbiamo fatto 13.000-14.000 tamponi su base volontaria, sulle commissioni d'esame, per dare serenità ai docenti, alle famiglie, ai ragazzi. E ci stiamo preparando per fare decine di migliaia di tamponi per tutto il personale docente e non docente, perché dovendo aprire l'anno scolastico, io credo che sia un atto di responsabilità, ripeto, per quelle che sono le nostre competenze specifiche, poi il grosso ricadrà sulle spalle dei sindaci, ma almeno dal punto di vista sanitario vorremmo cominciare l'anno scolastico, mettendo in sicurezza le scuole, i docenti, i non docenti, le famiglie e i ragazzi. Abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo dato una prova importante per la quale possiamo camminare a testa alta in Italia. Siamo la regione che in relazione alla popolazione residente ha il numero più basso di decessi, di contagi, e questo pur essendo la regione che riceve meno di tutte le regioni d'Italia nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Eppur avendo dovuto affrontare a fine marzo una situazione drammatica, drammatica, perché non arrivavano in Campania neanche le mascherine, i camici, i dispositivi di protezione. Siamo arrivati al punto che avevamo 48 ore di autonomia del 118. Abbiamo dovuto fare i pazzi per spiegare che qui non arrivava nulla, perché a un certo punto veniva requisito tutto dalla protezione civile nazionale, anche le cose che la regione acquistava magari in Cina o in Turchia o in Russia. Arrivavano all'aeroporto e veniva bloccato il requisito tutto. Nonostante tutto abbiamo dato una prova straordinaria. Questo è un altro elemento di cui essere orgogliosi, è un altro primato. Il tema del lavoro, anche qui, noi abbiamo fatto nelle settimane scorse una cosa che è unica in Italia. non so se Bonisoli ha altre notizie, ma per quello che riguarda le regioni e il livello di conoscenza che ho io, noi abbiamo varato un piano socio-economico che si è unito al piano sanitario per quasi un miliardo di euro. È incredibile a dirsi. Abbiamo deciso di dare il contributo di 2.000 euro alle micro-imprese e da quando abbiamo deciso a quando sono arrivati i soldi sul conto corrente sono passate tre settimane. Potremmo anche proporre al Governo nazionale se hanno bisogno di un aiuto di impegnarci a Cottimo. Io sono pronto a lavorare a Cottimo per fare arrivare i soldi, ovviamente. 130.000 pagamenti alle piccole imprese, piccolissime imprese, 60.000 bonus di 1.000 euro ai professionisti che hanno chiuso gli studi, ovviamente quelli sotto i 35.000 euro i fatturati, noi ci siamo misurati con le risorse che avevamo, comunque un miliardo che abbiamo investito. E la cosa in cui più vado orgoglioso abbiamo portato a 1.000 euro per due mesi le pensioni ai pensionati almini. 230.000 pensionati almini. A maggio hanno già avuto i 1.000 euro, li avranno anche per il mese di giugno. Abbiamo dato un contributo di quattro mesi agli stagionali del turismo, è partito un altro bando per gli alberghi bed and breakfast. Ci siamo dissanguati, ma abbiamo cercato di muoverci sapendo che la Campania è la Campania. E qui a volte vai a finire sotto usura anche per 500 euro che non hai in famiglia. È chiaro. Per questo abbiamo fatto il piano socio-economico. Questo è un altro motivo di eccellenza. Ed è un altro esempio, credo bello, che potremmo offrire all'Italia, al governo italiano. Sapete che in questo momento sono riuniti in conclave negli stati generali del... non so che... Noi stiamo facendo il piano del lavoro che dovrebbe essere, a mio parere, al di là delle conclusioni del conclave, uno dei 4-5 punti sui quali concentrare azioni il governo. E cioè un piano per il lavoro per 300.000-400.000 giovani da mettere nella pubblica amministrazione italiana. Punto. Senza conclave. Badate, abbiamo fatto un'esperienza che è stata per tutti quanti noi, anche per me, un'esperienza difficile, unica. Non è facile fare un concorso a cui partecipano 300.000 candidati. Intanto siamo orgogliosi di aver fatto questa scelta impegnando risorse fondamentali dell'FSE. Abbiamo fatto una scelta importante quando abbiamo dovuto individuare il soggetto attuatore. Ci siamo orientati sul Formez, anche perché parliamo di una struttura pubblica. Qualcuno ci sollecitava scegliere enti di formazione. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Con tutti i problemi abbiamo fatto, credo, la scelta migliore. Ringrazio il Presidente Bonisoli che nell'ultima fase ci ha anche accompagnato perché avevamo alcuni nodi da sciogliere. Questo ci ha consentito di accelerare di molto i tempi. Ora, vediamo di capirci per quanto riguarda gli antilocali. Noi veniamo da decenni di martirio dei comuni italiani. Cioè gli equilibri finanziari del nostro Paese sono stati raggiunti facendo un'operazione di taglio drammatico al sistema delle autonomie italiane, oltre che ai grandi servizi di civiltà. Questo è stato il risanamento finanziario dell'Italia. Senza rendersi conto che in questo modo mettiamo in ginocchio l'Italia. Non c'è solo il problema degli organici. I comuni, i sindaci, gli amministratori credo che siano ormai in una condizione di libertà vigilata. Voi siete i più vigilati d'Italia, noi possiamo dire. Voi per ogni atto amministrativo avete già tre forme di controllo perché ogni delibera richiede il parere di conformità del responsabile di settore, parere di conformità contabile del responsabile della ragioneria, il parere di legittimità generale del segretario generale. Abbiamo già i primi tre controlli a cui aggiungiamo il controllo amministrativo del TAR quando i ricorsi non mancano, poi abbiamo il controllo contabile della Corte dei Conti e dovete preoccuparvi se ci rimettete pure appartamento di famiglia. È tutto quello che viene. A questo aggiungiamo anche il controllo penale perché siamo stati talmente bravi nel nostro Paese da paralizzare la pubblica amministrazione con la figura di reato dell'abuso in atto d'ufficio sulla quale sto combattendo da cinque anni per dire che è una grande imbecillità che non produce trasparenza ma produce paralisi della pubblica amministrazione. Noi siamo in un Paese nel quale in nome della trasparenza si approva una figura di reato guardate è una cosa da impazzire che non distingue piano amministrativo e piano penale. In un Paese nel quale abbiamo centocinquantamila leggi non so quanti milioni di regolamenti attuativi in cui il codice degli appalti in un anno e mezzo è cambiato tre volte in cui il responsabile dell'ufficio appalti di un comune se ne deve andare al manicomio poi abbiamo le direttive dell'autorità di corruzione che spesso confliggono con il codice degli appalti per cui non sai se devi seguire quella direttiva o la legge che dice un'altra cosa e in questo contesto voi approvate una figura dell'abuso ufficio che prevede che per una condanna in primo grado per abuso un atto ufficio un dirigente riceve immediatamente automaticamente il dimezzamento dello stipendio il demanzionamento e lo spostamento a settori non operativi un amministratore peggio viene sospeso per un anno e mezzo voi pensate che in queste condizioni la pubblica amministrazione italiana possa andare avanti e camminare ho sentito le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio mi auguro che questa volta vadano avanti si è impegnato a modificare la figura di rato abuso un atto ufficio ma è evidente che se non cambiano queste norme di contesto noi non faremo nessun passo in avanti la legge che hanno approvato per il rilancio non so quante norme e regolamenti di attuazione prevede altro che la semplificazione amministrativa noi contiamo di fare per parte nostra come Regione Campania un lavoro di sburocratizzazione radicale che siamo riusciti a fare solo in parte sinceramente solo in parte perché quando abbiamo cominciato a lavorare abbiamo dovuto fare i conti con il primo problema che era quello di trovare la copertura finanziaria per i finanziamenti del decreto sull'accelerazione della spesa perché abbiamo scoperto che avevamo accelerato la spesa ma non c'erano i finanziamenti quindi abbiamo dovuto prendere il primo miliardo del po' della programmazione parallela per trovare le coperture finanziari altrimenti 200 comuni di tutta la regione sarebbero andati in dissesto perché non potevano pagare le imprese poi abbiamo dovuto fare i conti con tutte le emergenze con il PSR il piano di sviluppo rurale che era stato approvato a Capocchia e quindi non potevamo modificarlo perché non c'erano i tempi poi abbiamo dovuto fare i conti con tutte le emergenze che erano presenti sul territorio dagli idraulico forestali che non avevano nessuna copertura finanziaria ai Bross ai consorsi di Bacino a tutte le società partecipate della regione Campania per le quali non c'era una sola società con un bilancio in ordine avremmo dovuto licenziare 10.000 persone non era possibile ovviamente quindi è stato un calvario riprendere in mano tutte le questioni di emergenza sociale a cui si sono aggiunte poi le situazioni di crisi azientale il precariato l'ira di Dio bene questo lavoro deve essere ripreso con grande determinazione anche perché ovviamente la regione ha avuto gli stessi problemi di personale che avete voi noi abbiamo giovanissimi dirigenti sull'orlo ai 70 anni abbiamo gente che è più o meno come me quando parlate diciamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione non sa neanche mettere il dito e questo è un personale l'ultimo personale selezionato dai 25 anni fa con tutta la buona volontà 25 anni abbiamo dovuto buttare il sangue per fare le cose che abbiamo fatto sovraccaricando quel 10% di dirigenti che ha dovuto fare le veci anche di quelli che non avevamo o che quando li avevamo erano diciamo non all'altezza credo che faremo una prima decisione in termini di sburocarizzazione in relazione al genio civile è una materia che non abbiamo tutto il tempo di affrontare credo che approveremo un regolamento che dimezza le pratiche e i tempi da mandare al genio civile perché tutta una serie di scemenze devono essere eliminate per la verità avevamo già approvato un orientamento mandato a tutti gli uffici per i quali nessun atto nostro deve durare più di tre mesi se non scatta il silenzio assenso ma ovviamente bisognerà poi fare i controlli l'ira di Dio non ne parliamo approveremo un nuovo regolamento credo che ce la faremo per luglio almeno per gli uffici del genio civile in tutti i territori provinciali venendo a noi venendo a noi e finisco io credo che abbiamo fatto una cosa importante per i comuni e per noi innanzitutto è una bella operazione sociale con questi chiari di luna mandare 2500 ragazze e ragazzi a fare la formazione con la prospettiva di un lavoro stabile beh è una cosa davvero importante di cui essere orgogliosi orgogliosi due volte perché diamo ai comuni una mano reale provate a fare voi un concorso voglio vedere se ce la fate in meno di tre anni abbiamo dovuto buttare il sangue per fare oltre i costi ovviamente a noi il concorso costa 6 milioni di euro credo che sia un bel aiuto a tanti comuni non molti comuni sono tanti i comuni che hanno partecipato ma su 550 molti non hanno partecipato per due ragioni la prima perché avevamo molti comuni in predissesto non avevano proprio la possibilità tecnica di fare i piani per il personale piani trennali per il personale e compagnia bella comuni in dissesto direttamente e una parte di colleghi sindaci che non credevano che la cosa sarebbe andata avanti diciamo la verità decisiva bu facciamo il concorso questi non lo faranno mai e invece no lo abbiamo fatto vabbè abbiamo buttato il sangue abbiamo fatto il covid abbiamo fatto i ricorsi al tar i ricorsi al consiglio di stato l'anima accia vostra il concorso lo abbiamo fatto avevamo preso l'impegno lo abbiamo fatto questo lo dico perché da oggi in poi anche tanti colleghi sindaci che probabilmente non avevano molta fiducia nella divina provvidenza si ricrederanno sulla via di damasco e quindi noi potremo fare entro quest'anno una volta chiuso questo concorso con il nuovo piano con il nuovo FSE diciamo della nuova programmazione partiamo perché dobbiamo arrivare a 10.000 soluzioni ma è un numero non inventato perché questo è il vuoto di pianta organica che abbiamo sui 550 comuni oltre che in altri enti la cosa straordinaria è che partecipano il piano per il lavoro la corte d'appello di Napoli la corte d'appello di Saler cioè sono veramente in ginocchio anche loro per il personale per dirvi che veramente è un'esigenza fortissima e il secondo motivo di soddisfazione è rappresentato al fatto che noi abbiamo fatto un concorso vero quando parlavamo tre anni fa diciamo la verità uno dei motivi anche di riserve avanzate a qualche ministro del governo di allora era relativo alla sfiducia nelle procedure e nella gestione cioè si immaginava la soida infornata in mezzogiorno facciamo le soide porcherie clientelari e compagnia bella noi ci siamo mossi sulla base dei due obiettivi basta precariato non voglio avere più comitati sotto comitati cortei di gente che parte per fare quattro mesi di lavoro e poi viene sotto i comuni o sotto la regione perché pretende la stabilizzazione se dobbiamo dare lavoro diamolo in maniera seria senza creare blocchi di precariato secondo facciamo un concorso vero questo dovrà essere un motivo di soddisfazione per le ragazze e i ragazzi che hanno vinto il concorso questo è un concorso vero abbiamo preso qualche mese in più ma era l'unica possibilità per arrivare alla stabilizzazione senza fare o porcherie clientelari oppure atti amministrativi avventurosi dal punto di vista della corte dei conti e dal punto di vista anche dei ricorsi amministrativi questo è un motivo di grande soddisfazione per i ragazzi che possono dire a testa alta noi siamo stati selezionati senza aver dovuto dire grazie a nessuno senza aver dovuto trovare nessun padrino politico di destra di centro e di sinistra edda è una rivoluzione in campagna o no 3.000 giovani che vanno a lavorare così perché hanno fatto una procedura concorsuale e hanno vinto perché erano bravi poi so bene ovviamente ogni concorso ha una componente anche di di fortuna di casualità ma insomma massimo di trasparenza e credo che i dirigenti del Formez potranno certificare che nessuno ha interferito nelle procedure o nelle attività di selezione del personale voglio dire e lo diremo poi ai ragazzi che ovviamente la regione si sente impegnata a seguire fino alla conclusione questo percorso ai colleghi sindaci dico solo una raccomandazione fate in modo che questi ragazzi che arrivano mantengano la propria freschezza e il loro entusiasmo non li fate entrare in contatto con quelli che mi raccomando ho fatto per lunghi anni il vostro mestiere voi li conoscete isolatevi metteteli in quarantena quei dirigenti che io ricordo ho ricordato spesso l'esperienza fatta appena insediato da sindaco ormai qualche decennio fa è entusiasta come te caro Enzo Cumo andiamo dobbiamo cambiare e faccio la prima riunione con tutti i dirigenti il programma era l'autunno credo del 92 piena tangentopoli finiamo questa bella riunione subito dopo le elezioni grande entusiasmo alla fine dell'incontro mi si avvicina il segretario comunale mi prende sotto braccio indisparto e mi dice sindaco io le vorrei dare un consiglio mi dica mi dica sindaco qua meno facciamo meglio è non avevamo neanche finito la riunione operativa sindaco meno facciamo meglio questo è il segretario generale di quei tempi allora ci sono tanti funzionari che hanno sono segnati come dire dal tempo che non hanno più voglia di fare niente demotivati cerchiamo di non perdere l'entusiasmo di questi ragazzi cerchiamo di spiegare loro che devono fare una guerra perché in Italia abbiamo un'amministrazione per atti non per risultati come sapete una delle parole d'ordine di tanti burocrati è mettiamo a posto le carte non produciamo il risultato apriamo il cantiere mettiamo a posto le carte cioè pariamoci il fondo schier ecco non li fate entrare in contatto con questi qua se no li roviniamo prima del tempo e li perdiamo allora un bel processo formativo ma anche una grande carica un grande entusiasmo spiegare loro che andare a lavorare in un comune è alla fine il lavoro più bello perché è l'unico lavoro istituzionale che ti consente una ricaduta immediata fra quello che decide e quello che vedi nei quartieri in mezzo alla gente qua dobbiamo fare leggi essenzialmente poi ci sono belle cose che hanno pure ricadute perché i 230 mila pensionati avranno visto qualcosa o anche le imprese però è chiaro che il lavoro sul campo di un'amministrazione comunale ti consente di verificare quotidianamente il cambiamento del territorio della realtà quindi trasmettiamo questo entusiasmo alle ragazze e ai ragazzi e diamo anche loro responsabilità anche se sono magari in giovane età poi avranno modo di farsi l'esperienza sul campo l'importante è che non facciamoli corrompere prima del tempo e se no poi il lavoro di recupero diventa molto complicato allora noi seguiremo ovviamente questi ragazzi per il programma formativo e fino alla conclusione io credo che i ragazzi saranno stabilizzati tutti quanti potete trovare proprio uno che è proprio una testa di sedano ma credo che avendo conosciuto i ragazzi anche di queste giovani generazioni al di là delle immagini e delle apparenze sono ragazzi molto seri e soprattutto hanno capito capiscono che per loro è un'occasione unica per cambiarsi la vita perché un lavoro oggi è un lavoro stabile ti cambia la vita non c'è niente da fare noi li seguiremo fino in fondo perché nel modo trasparente che abbiamo seguito nel modo corretto che abbiamo seguito faremo una cosa di straordinario valore per le amministrazioni che avranno una grande mano e la possibilità di respirare di lavorare e per le famiglie che non dovranno vedere tanti ragazzi partire per altre parti d'Italia o d'Europa per poter lavorare e vivere intanto grazie a voi per la collaborazione in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti